Donato da Foggia, donato da Foggia Madonna mia, e che è successo? Come è possibile? Come è possibile? Mamma! Maria! Ma è vero! È vero, è vero! No, è possibile! Mamma mia! Che è successo, mamma? Mamma, che disastro! Che disastro! Ma, che è successo, mamma? La tragedia! Buongiorno! Ehi, papà! Che è successo, Marie? Perché sta piangendo? Che è successo? Non lo so, la verità, io pensavo fossi morto tu! No! No, non è possibile! Perché stai piangendo, Marie? Mamma mia! Avete saputo? Mamma mia, sì, sì! Che tragedia! Sì, ma a me non interessa, io ho sempre usato quella del cart d'oro o Jessica Gelati? Marie, mi sta facendo piangere a me, Marie! Che è successo? È fallita la tapper, we're! Che ha morto il rottweiler! È fallita la tapper, we're! Ma come devo fare? Stiamo piangendo perché è fallita la tapper, we're! Cioè, ma 9 e mezzo stavamo piangendo per la coppetta! Non si chiama coppetta! Si chiama tapper, we're! Ma, te lo diciamo alla Fedez o alla Tony F? Vai, Giuseppe! Tutto sto casino senza ragione! Ed io che piango come un coglione! 300 euro, un contenitore! Non c'è più spazio nel congelatore! Papà te ne comprava, 20 pezzi all'anno! Eppure falliscono, ma come fanno? Riposa in pace, mia dolce coppetta! Vai a fare culo, tu le tue amiche e pure nonnancetta!